secondo le statistiche di youtube solo l'1% di guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie grazie Che staggia tutto questo? Per ricordare che prendere e i piacinato Ledi a Non è un poeta? 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 ma sono io e non c'è già shanai da non c'è solda non è l'uco daったら 言ってくれよ i boku shajakai per me Sì un po c'è n'è l'essi l'essi l'ichini l'e1 un dodo si muestà mi show cani da E? E? Chima che c'era quella che ci sia meglio. E? 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 non sempre ma che a me ma che a quem Ľ no a metàles con una barba ormai Non c'è il tuo lavoro. Non c'è il tuo lavoro. Non c'è il tuo lavoro. Il tuo lavoro è un uomo. Non c'è nessuno ok fuck off Nick is that so fucking stupid you're an actual fucking moron you would rather listen to those fucking idiots than ever trust any of us I, yes when half the fucking city wanted to fucking kill you we all had your fucking backs you piece of shit you need to calm the fuck down before I put you down like the dog you are you're a fucking dog you fucking ugly little whore fuck off fuck off oh my god strike him come on Charlie how many fuck fucking times did I defend you you let everyone fucking get shot fucking door set right eastbound door set I'm gonna save you officers oh wait I'll bring everyone to the roof so that so that it's 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 I'm it's 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 E-mail o text. E-mail oi. E-mail o text. 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 30分後 30分後 30分後またするってこと そうだぞ 俺を呼べなぁその時はじゃあ 呼ぶのか分かったじゃあ呼ぶな よし待ってろよ じゃあありがとうございました クソー クソー なんだこいつ ご丁寧に電話してきやがったこいつ シュウが止まんないんじゃ シュウ聞いてくれ なんで知ってるんだよ 来てほしいこれ発砲1 おーまだ忙しそうだな あれー ドリー強制迷走から戻りました あれ? 歪んだ エレベーターは行きないのか なんですかー なんですかー こりゃ欲しくなるわ 上手かったですか パレット銀行の犯人であってますよねー イエス はい おーいてぇ 屋根の上にいたカーブーハットのぶり頭どこ行ったー 3 スティスメーなんすよねー あー了解 アンに2人しか確認できないわー やったやったー おー 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 おー